Il suo coraggio lo ha fatto diventare il principale obiettivo dei terroristi. Hai ficcato il naso dove non dovevi. Ora il suo incarico più importante è salvare la sua famiglia. Harrison Ford è Jack Ryan. Tesoro, lascia l'autostrada e va a un distrito di polizia. Giochi di potere. Lunedì alle 21.15 sulla 7.